Rotto il ghiaccio con la bella vittoria di Carpi, ora il Foggia va a caccia di conferme per se stesso, per i tifosi, per avere ed offrire più certezze in ottica proseguo campionato. Lo sottolinea anche Luca Martinelli che ha dato il là alla rimonta con la rete dell'1-1. Ci godiamo, afferma il difensore, una vittoria importante e meritata, ma si torna al lavoro per la gara di Brescia. Il passato è passato, guardiamo con positività al presente e al futuro, sappiamo ciò che serve per far bene in questa categoria. Concetto confermato anche da Mister Stroppa, è bello, dice il tecnico rossonero, essere tornati a vincere dopo tanti anni in Serie B, speriamo sia la prima di tante vittorie. Il calendario dice a proposito dopo il turno infrasettimanale Brescia al Rigamonti, una sorta di prova del 9 da non fallire contro una squadra che per di più avrà dalla sua una maggiore freschezza per la sospensione dopo 20 minuti ed il rinvio della partita di Terni.